Mercoledì 5 ottobre ci troviamo nell'area parcheggio alle spalle della stazione ferroviaria di Pesaro e a fianco al Cavalca Ferrovia. Un luogo che abbiamo più volte ripreso con le nostre telecamere anche in seguito del contenzioso fra il comune di Pesaro e Porta Cappuccina, società proprietaria del parcheggio adiacente a questo. Parcheggio che è stato ritagliato questo qualche mese fa come soluzione a quel contenzioso, però è un parcheggio che ora potrebbe diventare la soluzione ad un altro caso spinoso che ha caratterizzato la primavera pesarese. Quello delle discusse installazioni delle antenne 5G. Ricorderete infatti le roventi proteste dei residenti di Soria di fronte al contestato accordo del comune con l'azienda di telefonia Iliad per installare un'antenna 5G nell'area verde fra via Nobiliore e via Donzelli. Ci fu un'accorata protesta da parte di un comitato di residenti supportato dalle associazioni Lega Ambiente e Italia Nostra. Una protesta che convogliò in una raccolta di oltre mille firme per dire no all'antenna di 30 metri a Soria. Un no che era circostanziato da molteplici motivazioni, una su tutte la mancanza di comunicazione da parte dell'amministrazione su un accordo formalizzato all'oscuro dei residenti, le caratteristiche di una zona ad alta densità abitativa e i forti dubbi sulle problematiche relative alla salute. Tematiche queste ultime sulle quali il comune ha anche tentato di rassicurare la cittadinanza organizzando approfondimenti scientifici e medici aperti al pubblico. Dalle proteste di primavera all'autunno quella di Soria può dirsi una battaglia vinta perché l'antenna 5G non si costruirà più in via Nobiliore ma si costruisce qui dietro alla stazione. Un accordo dunque frutto della mediazione tra il comune, la società Iliad e le istanze del comitato. Lavori che partono dal 5 al 14 ottobre come ci ricorda anche questo cartello. Di fatto oggi i lavori non sono ancora partiti, è stata delimitata l'area per il divieto di sosta propedeutico appunto alla partenza delle cantiere. E dunque entro il 14 ottobre si completerà in quest'area l'installazione di una torre di 30 metri con 6 antenne e 3 parabole. E' bene però ricordare che questa antena sarà solo una delle 11 installazioni 5G previste dal piano di rete mobile del comune. Resta ad esempio ancora aperto il caso di via Kennedy in zona Montegranaro al centro di una simile protesta pochi giorni dopo il caso di Soria di questa primavera.